Il Presupposto 2024 per il Paese Aruba ha da approvare per il Parlamento di Aruba una votazione di GES2 pro e 7 contra. Il Presupposto 2021 è di 2 Presupposti di Paese Aruba che si può entrare in un'ora, ma il Presupposto 2024 ha un surplus di 70 milioni di florini. Il risultato è il gasto di personale che il Presupposto 2024 ha di stipulato enormemente. Il Presupposto 2024 è la presione di deve e la risultato è la sua situazione di surplus. Il Presupposto 2024 ha di integrare per il quale ci sono i nostri cambiamenti per i nostri cambiamenti con la reforma del Paese Aruba Il Presupposto, qui, con l'anno 2023, mostra il cambiamento di finanziamenti pubblici nel Paese Aruba per la recuperazione che è necessario per brindare e alivio che il paese ha aspettato. Nostra grazie a tutti i nostri con il risultato che si può entrare in un'ora per il Presupposto 2024 per l'accordo per l'accordo di un altro. Nostra grazie anche al Parlamento per la sua approvazione e ora che noi lo seguiamo per il risultato con l'anno volta, noi abbiamo un Presupposto di quale ora è il Gobierno per seguire con noi nel benestare del Paese Aruba. Grazie a tutti.